Secondo appuntamento con il Mazza Frusto, storie di giostra e abbiamo cominciato proprio raccontando le storie di chi quest'anno la giostra la vedrà in maniera diversa. La settimana scorsa abbiamo sentito Alessandro Vannozzi ma c'è ovviamente un altro grande assente in questa edizione 2017 che è Angelo Checcacci e siamo andati a sentire le sue opinioni ma anche le sue emozioni direi. Con Angelo Checcacci siamo a raccontare una storia di giostra che è lunga 22 anni perché questo è stato il tuo rapporto con il quartiere di Porta Sant'Andrea con questo mondo che tu hai conosciuto, apprezzato e ovviamente sei stato ricambiato. Se tu dovessi fare una piccola sintesi di come è stato questo rapporto, un rapporto con un mondo particolare perché è vero che è un mondo equestre ma tu venivi comunque da un'esperienza che era un'esperienza di equitazione chiaramente di tipo diverso rispetto alla giostra del Saraceno. Sì, giustamente dici una giostra diversa. Ora, se mi permetti volevo fare un preambolo prima di entrare nel discorso che volevo ringraziare tutto il popolo di giostra, tutti i quartieri che mi sono stati vicini dopo le mie disavventure, prima una poi un'altra. E ho ricevuto tanto calore che non l'avrei mai immaginato. Tanto calore forse anche più di qualche altro quartiere e di questo ne sono orgoglioso, ne sono contento. Grazie. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo periodo. Grazie. Per il resto la storia la si sa, la si conosce. È iniziata nel 1995 quando facevamo i concorsi insieme a Vedovini, Martino, andavamo passeggiata e si iniziò con il grande Martino a fare la scuola. Lui disse perché non facciamo insieme a un altro grande lettore che è Fagliaro Papini. Come Fagliaro Papini come lettore a Sant'Andrea non è nati più. Si disse si fa una scuola, perché no? Col consenso del capitano che allora era Dingio, con consenso al 110% del dottor Fagliaro Papini, si iniziò a fare questa scuola. Sono entrati, abbiamo iniziato con un lavoro di equitazione perché ancora erano i tempi che si montava a cavallo, si andava in Alizza e si tirava. Si vinceva le roste con 5 come Albiani e Gamberi. Con 5 complessivi, 5 in 2 tiri perché oggi ai ragazzi bisogna dirglielo questo. Adesso queste cose non esistono più e non esistono mai più. Ho dato cavalli a Tabanelli che ha corso per Santo Spirito, ho avuto una testa da Santo Spirito per un paio di anni. Poi si è fatta questa scuola a vari allievi, tanti di cui, non sto a rincare tutti, però da Sipiaci, da Baldo, Martino stesso. Ho montato anche Gabriele Gambi e poi ho detto basta, giustamente, ok. E tante altre cose. Poi via via è cresciuto tutto lo staff dei giovani, è cresciuto Vedovini, è cresciuto il Bricchica, lo chiamiamo Bricchica ormai Stefano. Tutti così. Sono cresciuti e poi ha funzionato. Diciamo che in quel periodo eravamo un po' criticati da tutto, no? Perché era una cosa un po' nuova, diciamo come il lavoro in piano, l'ostacolo di fare una cosa, però il lavoro in piano ti crea il cavallo, poi crea il cavallo, poi crea il cavaliere. Il cavaliere che gestisce un cavallo, una lizza, semplicissima una lizza, sono 50 metri, ma è complicatissima perché ci sono troppi fattori, i disturbi, le carriere, come galoppa un cavallo, come lo fai galoppare. Per fare questo devi sapere montare cavallo, devi sapere lavorare in piano, il famoso lavoro in piano, per gestirti poi il cavallo. Poi il cavallo devi fare differenza, quindi devi trovarti un cavallo giusto, buono per fare la giosta e se non è buono ci sono tanti cavalli al giro, si comprano, quindi si trovano i cavalli. Quindi è stata un'avventura che l'ho vissuta con vari consigli, vari consiglieri. Diciamo che il più lungo che ho avuto il rapporto è con Andrea Ranzi che qui davanti a me mi fa... Ecco, tra l'altro la domanda te la faccio subito, te l'avrei voluta fare. Se lui era uno di quei capitani che voleva comunque influire sulle scelte tecniche, questa era un po' come i capitani di oggi che magari con il ruolo degli allenatori contano tra virgolette un po' meno, possiamo dire. No, diciamo che Andrea ha fatto il capitano, poi si è sempre consigliato con chi pensava lui ne sapesse di più, poi si è rimasto deluso, soddisfatto lo sa lui, ma è uno dei pochi che ha fatto il capitano. Io adesso parlo del mio quartiere, adesso diciamo che si lascia un po' desiderare tutto ciò che è intorno, perché le persone non si vogliono prendere più scelte di responsabilità, non hanno le capacità e non manco chiedono consiglio a chi è più esperto, perché se mi permettete è da 83 che sono in giostra come attivo lavoratore, preparatore, no come spettatore in tribuna. Quindi posso dare tanti consigli, avrei potuto dare tanti consigli, però questo è successo prima, poi non è successo, ripeto, cosa è successo in 22 anni? Che è finita quest'anno quando le cose non sono andate poi benone, ma però in 15 giorni abbiamo fatto un recupero, così per parlare, definiti due mesi di 4 e 8 siamo arrivati a fare 13 in una settimana, quindi come si fa a recuperare lo si sa, probabilmente non lo sa chi sta nelle poltrone quello che si deve fare. La cosa che ha colpito è che comunque il quartiere di Porta Sant'Andrea, come dicevi giustamente, è il quartiere che ha fatto scuola, perché quando voi avete impostato questo lavoro negli altri quartieri non era neanche lontanamente pensabile fare un lavoro di questo tipo. Ecco, forse è anche questa la cosa che ti ha amareggiato di più, cioè non vedere riconosciuto il fatto che comunque Sant'Andrea è stato un quartiere leader per tanti e tanti anni dal punto di vista della preparazione, che a volte un risultato in piazza, che a volte dipende da un tiro di un millimetro, possa condizionare i giudizi invece sul lavoro che si fa tutto l'anno. Ma perché questo avviene probabilmente perché non frequenti i posti, non vedi le differenze. Se nel settembre 2015 siamo stati quartieri, e ancora per me è quartiere da battere, perché quello che ha in mano Sant'Andrea adesso ha un potere imponente, ha una forza di ragazzi e di cavalli che io ho visto, perché per mia gioia sono stato controllato da altre persone, ho potuto vedere e constatare ciò che c'è in giro, Sant'Andrea è una forza ancora. mal gestita, perché i lavori che sono stati fatti non erano questi quelli da fare, secondo me. E c'era solo da togliere due persone da un consiglio che non sanno quello che fanno. Questo è come lo vedo io, perché stanno distruggendo tutto ciò che io ho costruito in tutto questo tempo. E se si arriva con i mezzi che hanno e a giugno non vinci, cosa adesso si deve fare? Io ho lasciato il quartiere in condizioni ottime, super. E se era solo da fare delle modifiche, che sapevo anche quello che fare, sciogliere risorse interne, superiori all'investimento che hanno fatto loro, ma superiori, evidentemente quando si fa investimenti che non si spende i propri soldi, si guarda meno a fare gli investimenti. Posso sbagliare? Vedremo. Senti Angelo, il fatto che gli altri tre quartieri, tutte e tre, si sono messi in contatto con te e hanno cercato appunto di avvalersi della tua esperienza, delle tue qualità, e dico tutte e tre, mettendoci ovviamente dentro anche Porta Santo Spirito, perché anche questa è storia, oltre a Porta del Foro e Porta Crucifera, anche Porta Santo Spirito ti ha chiesto di entrare nel suo staff. Che sensazione ti ha dato questo e perché non hai ritenuto di impegnarti con un altro quartiere che non fosse Sant'Andrea? Io ho sempre detto a tutti, sia a Porta del Foro, Santo Spirito, Cocidone, che sono stati molto gentili, molto carini, ma non si è neanche parlato di soldi, questa è una cosa che devi fare con passione, quando c'entrano in mezzo i soldi è il cuore che lavora, è il cuore che ti fa fare le cose, perché tutto è facile, fai qui, fai là, fai sotto, no, non è che in un'ora, quando mi dicevano, ah ma te stai qui fino alle 11, certo, perché devo preparare, costruire, arrivare in modo che i ragazzi arrivino con i cavalli in ordine, poi ti insegno e gli stavo insegnando a mettersi a fare tante cosine in ordine. Essere chiamato da altri quartieri io non me la sono sentita per adesso, perché qui da me è venuto tutti i miei ragazzi, io li chiamo i miei ragazzi, perché fondamentalmente sono sempre i miei ragazzi, quindi mi vogliono bene come quando ero lì con loro, lasciamo stare le persone che non esistono più per me, quindi non è quello, però ho fatto il compleanno, ho invitato tutti quelli, forse se ho dimenticato qualcuno, quelli ragazzi, quegli uomini, quegli uomini che in 22 anni si è costruito un quartiere con una forza imponente e quindi ho ritenuto opportuno invitare queste persone, scelto una sessantina, che sono stati i miei collaboratori, compreso dal capitano, compreso dai grume, che è un compito molto complicato ed difficile, non ricompensato e non qualificato e non stimato da chi fa il capitano. Ecco, ora non voglio andare oltre, però quello che volevo dire è che fuori Sant'Andrea, Santo Spirito non sono andato, perché? Perché dopo 22 anni in un quartiere ho il popolo bianco-verde che mi vuol bene, solo quello per me mi fa star bene, non posso andare ad addestrare dei ragazzi che vanno contro i miei ragazzi che ho addestrato e adesso non me la sento, se poi i miei ragazzi mi diranno vacci qualcosa farò, non lo so, ma non credo che loro vogliano questo e il piacere che mi ha fatto anche da Santo Spirito che non ha bisogno assolutamente di me, Martino Gianni che ha fatto la storia, posso definire unico e grande Martino Gianni, mi ha cercato, onorato, però mi hanno cercato, però cosa hanno fatto? Il Rettore, che è una bravissima persona, ha parlato con i suoi ragazzi, con i suoi tecnici, con i suoi cavalieri, parole testuali, vi starebbe bene se porto che cacci di scuderia? Adesso nessuno ha fatto obiezione, nel mio quartiere la grande stima che hanno nei miei confronti, dopo un mese, ho abbondante sento la televisione, lo si prende e si è preso questo, bravi, complimenti, io non ho assolutamente niente, mai chiamato e gli ho detto fai bene, vai, fatti mettere bene perché è giusto che tu vada, non è giusto per me rimanere, questo è, con un grande rimpianto che poi per giustificare ancora l'operato non convinti di quello che avevo scritto, ho dovuto andare in assemblea, in assemblea si è chiarito altre cose e poi è successo altre cose, con dispiacere. L'emozione ti ha giocato un brutto scherzo, ti ritrovo in forma. Le mie due disavventure, una è stata fuori dal quartiere che non ti pensare che mi sono messo anche ad angeli, quando ci penso non è che ancora sto bene, sto bene ok, però per me è stata pesa la cosa, insomma parecchio, poi metti quell'altra quindi è andata così, che vuoi, questa è la vita. Giochiamo invece con una nota bella perché qui tu stai lavorando in questa tua struttura e dei cavalli, prima scopi c'è anche Giorgio Marmorini con Andrea Lanzi, io gli dicevo con una battuta, ma mettiamo su un quartiere per conto nostro, alla fine il capitano ce l'abbiamo, il rettore ce l'abbiamo, il proprietore ce l'abbiamo, i cavalli ce l'abbiamo, il giostratore si trovano, io non faccio niente ma insomma questo non conta, lo potremo anche poi imparare un terremoto, detto fatto, Giulia, Angiolino, il Lanzi e in soccorso anche i Marmorini e il miracolo di Angiolino che cacci è fatto, entra il capitano del quartiere del Mazzo Cristo A presto!